Il sindaco Mario Conte vince a battaglia in difesa dell'ospedale di Eboli. E' stata pubblicata ieri la sentenza della terza sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione di Salerno, che ha accolto interamente le doglianze presentate dal Comune di Eboli, a cui hanno posto resistenza la Regione Campania, l'ASD, il Comune di Battipaglia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Salute. La scelta della Regione Campania del giugno 2023, confermata con un'altra delibera del novembre 2023 e poi avvallata anche dalla Direzione Generale dell'ASD, chiaramente andava in una direzione completamente diversa. Si declassava l'ospedale di Eboli, si trasferivano i posti letto in questo nuovo ospedale che si voleva costruire a Battipaglia e quindi non è l'ospedale unico della Valle di Sele. Per fare l'ospedale unico della Valle di Sele e per fare un nuovo ospedale occorre quello che dice il TAR, occorre fare un nuovo piano della rete ospedaliera regionale, che è stato approvato nel 2017, integrato nel 2018, quindi è quello vigente e che prevede i due ospedali. Quindi il TAR ha accolto questo primo motivo di ricorso del Comune di Eboli, dicendo che dovete fare un istruttore, dovete verificare sul territorio qual è la necessità della cura, dell'assistenza, quanti posti letti avete a disposizione e poi potete scegliere se fare un nuovo ospedale oppure no. Questo non è stato fatto e quindi ecco perché quella delibera regionale, le due delibera regionale, sono illegittime. Poi c'è il problema che non si può declassare un ospedale come quello di Eboli senza pensare poi a una struttura unica, ma che venga condivisa anche dagli altri comuni, perché se parliamo di ospedale unico della Valle di Sele, credo debbano prendere parte da questa decisione politica importante, anche gli altri comuni della Valle di Sele, medio e alta Valle di Sele, perché l'ospedale di Eboli non è solo la città di Eboli, abbiamo tutta una serie di comuni che gravitano intorno all'ospedale, parliamo di 120.000, cioè di 30.000 abitanti, a parte una serie di apparecchiature che sono state fornite negli ultimi tempi con investimenti importanti, milioni di euro. E poi c'è questo investimento sulle sale operatorie, quattro sale operatorie nuove, che sono le migliori e le più attrezzate sale operatorie dell'ASA Salerno in questo momento e che inaugureremo da qui a qualche giorno, per un investimento di oltre 4 milioni e mezzo. Quindi va evidente che quella delibera regionale del giugno e quella altra del novembre vanno in una direzione opposta. Devo anche prendere atto che il Presidente Luca e lo stesso Direttore Generale Sosto hanno mantenuto questi adeguamenti e finanziamenti per l'ospedale di Eboli, questi miglioramenti dal punto di vista proprio tecnologico dell'ospedale e c'è anche la necessità adesso di fare la nuova palazzina che andrà a migliorare alcuni reparti che in questo momento hanno bisogno di riqualificazione.